L'istituto Alto Attesino ha presentato a Udine il nuovo CDA che sarà sottoposto all'assemblea dei soci di Civibanchi il 29 aprile. Le due banche continueranno ad essere autonome, ha spiegato il presidente, e creeremo plus valore per tutti, parere positivo del sindaco Fontanini sull'operazione. Giovedì santo di passione per molti negozianti di Udine, il cantiere di Piazzetta Marconi limita gli affari in un'area che ha già pagato i ritardi dei lavori in via Mercato Vecchio. Per interventi alla rete idrica diversi esercizi hanno anche fatto i conti con l'assenza di acqua per alcune ore. Campo formido sotto shock dopo la macabra scoperta di due corpi in stato di decomposizione nella loro abitazione. Il decesso potrebbe essere avvenuto 6-7 mesi fa. Gli inquirenti escludono l'ipotesi di morte violenta per mano di terzi e cercano anche sui cellulari dettagli utili alla ricostruzione dei motivi dei decessi. A Lignano il passo barca riparte con un mese e mezzo in anticipo rispetto allo scorso anno e sarà attivo già da domani. Potenziati i collegamenti con le altre spiagge. Grado inaugura la stagione il 1 maggio con tanti eventi per celebrare i 130 anni della sua fondazione. Cambiano i vertici JIT. Il nigeriano è favorito su Pussetto per la sfida di sabato pomeriggio alla Dacia Arena contro l'Empoli. Rientrerà Pereira che ha scontato la squalifica e potrebbe prendere il posto di Arslan. Previsto il pienone. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Il cinquantesimo giorno di guerra in Ucraina e anche oggi i bollettini parlano di tante vittime tra cui anche tanti bambini non solo per quelle che sono gli attacchi dei russi ma anche tante morti dovute alla fame di questo raccontano gli inviati proprio nei territori dell'Ucraina. Intanto mentre appunto si continua a combattere e ad avere a che fare con questo tipo di situazioni davvero difficili e a questo punto anche interminabili perché sono passati 50 giorni. Continua anche lo scontro duro, durissimo sul gas. Zelensky oggi ha fatto un duro attacco ai paesi europei che continuano ad acquistare petrolio russo. Sono soldi sporchi del sangue di altre persone, ha denunciato il presidente ucraino in un'intervista alla BBC. Zelensky ha chiamato in causa soprattutto la Germania e l'Ungheria accusandole di bloccare gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia da cui la Russia dovrebbe guadagnare oltre 300 miliardi di dollari quest'anno. Del gas russo e dei rapporti con l'Europa ha parlato anche Putin che si è detto ed è sembrato assolutamente sereno, ha detto tanto il nostro gas non è sostituibile. Sentite. E che ci ci preoccupa, che ci sono state le partnere di nidruzione dei strani, che non possono aburire senza arctercii energetico, in particolare senza naturali gasi, per esempio. Il risultato di l'esmieto per l'Europa non è possibile, ma non è possibile, ma non è possibile, ma non è possibile. Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Le postazioni di altri paesi, prima di tutto i Stati Uniti, che possono essere spostati all'Europa, possono essere usciti a volte più, proprio a volte. La mamma è arrivata a marzo da Ternopil, insieme ad altre tre mamme e cinque bambini. Sono stati tutti accolti dalla comunità di Ruda, che ora dà il benvenuto alla piccola Valeria. Stasera ci sarà anche una manifestazione proprio per la pace in Ucraina a Ruda e per dare il benvenuto alla piccola Valeria. Cambiamo argomento e parliamo della vicenda sparcasse Civibank, perché l'Istituto Alto Attesino, oggi a Udine, ha presentato ufficialmente il suo progetto di banca territoriale e anche la lista di candidati, il nuovo CDA, da sottoporre poi all'Assemblea dei Soci di Civibank. Andiamo a sentire. Un grande progetto di banca territoriale del nord-est, così è stata definita la collaborazione tra Sparcasse e Civibank, in occasione della presentazione da parte della Banca Alto Attesina dei componenti della lista, che in qualità di primo azionista sottoporrà l'Assemblea dei Soci all'Istituto di Credito Cividalese, presenti non solo il presidente Gerhard Branstatter e l'amministratore delegato Nicola Calabro, ma anche i membri del nuovo CDA, tra cui la candidata presidente Alberta Gervasio. Una lista caratterizzata da un'identità culturale ben precisa e da un forte legame con il territorio, lo stesso su cui si intende puntare per il futuro. Un giorno importante per noi, perché il Consiglio di amministrazione che noi proponiamo come rinnovamento dell'attuale viene presentato ufficialmente e abbiamo veramente piacere di far cogliere a coloro che ci osservano che anche nella decisione di chi fa parte di questo Consiglio di amministrazione c'è tanto elemento di territorialità, che è quello che continuiamo a sostenere, perché abbiamo in testa un'idea di una Civibank molto radicata sul territorio e quale migliore conferma di questa volontà di tenerla legata al territorio, capace di ascoltare il territorio e di sostenere il territorio, avere una bella componente friulana che garantisce questa capacità di ascolto. La lista di sparcasse sarà presentata anche nell'ambito di due eventi rivolti ad azionisti, clienti, dipendenti e a tutti gli interessati, mercoledì 20 aprile alle 18 a Villa dei Claricini e giovedì 21 alla stessa ora alla Dacia Arena. Sono due eventi che si svolgeranno, uno a Cividale e uno a Udine e che hanno l'obiettivo di permetterci di avvicinarci a quelli che magari finora non hanno avuto la possibilità di comprendere bene il nostro progetto, cosa sta dietro questa operazione, quali possono essere i vantaggi per gli azionisti, ma anche spiegare che per quanto riguarda i clienti, i clienti non hanno nulla da temere, anzi noi crediamo che il servizio al cliente, che già oggi è un buon servizio, possa anche migliorare in futuro grazie alla collaborazione fra le due banche che continueranno separatamente a fare il proprio ruolo nei territori in cui operano. Il progetto Sparkasse che è stato presentato oggi anche al sindaco di Udine Fontanini che ha incontrato appunto i vertici dell'Istituto Alto Attesino e poi si è espresso così. Sindaco Fontanini, questa mattina l'incontro con i vertici di Sparkasse. Il Comune di Udine quindi dà il via libera a questa operazione, un via libera simbolico? Il Comune di Udine non è titolare di azioni della CV Banche, io ho voluto incontrare gli esponenti di questa importante banca di Bolzano che adesso stanno portando avanti questa operazione per sentire dai diretti protagonisti come stanno le cose. Mi hanno assicurato che CV Banche avrà ancora la sua autonomia, che non ci sono questioni di togliere in pratica sportelli, nemmeno di diminuire il numero di dipendenti e quindi mantenere una presenza importante di una banca storica qui del nostro Friuli. Una realtà autonoma come quella di Bolzano che si incontra con un'altra realtà autonoma, quella del Friuli Venezia Giulia, secondo lei è un po' una garanzia tra virgolette da questo punto di vista? Io la vedo come una garanzia anche perché nel passato abbiamo visto cose non belle, cito una per tutte, la cassa di risparmio di Udine Pordenone assorbita da Intesa San Paolo e dal gruppo poi Intesa che non hanno lasciato in pratica grandi cose sul nostro territorio perché tutte le decisioni vengono prese a Torino. Qui siamo molto più vicini a Bolzano e soprattutto il progetto riguarda proprio un istituto di credito di dimensioni un po' più grande rispetto alle due realtà che adesso sono presenti sul nostro territorio per affrontare le sfide del futuro degli istituti di credito che non sono facili perché la situazione non è semplice. Un po' beccato poi Fontanini nelle ultime ore su queste dichiarazioni dall'opposizione in particolare del PD che dice che la politica non deve meschiarsi in questi fatti. Veniamo allora ai fatti che devono preoccupare o comunque devono occupare i pensieri dell'amministrazione comunale perché siamo nella settimana pasquale, siamo vicinissimi a Pasqua, un momento importante soprattutto anche per i commercianti della città. Alcuni di loro però si trovano a dover fare i conti con i cantieri e i vari disagi legati ai cantieri. Ci colleghiamo per capirne di più e per ascoltare alcune voci con Francesca Santoro. Buonasera Francesca. Buonasera Giorgia. Commercianti ed esercenti di Piazza Marconi e delle vie limitrofe non sono per niente contenti per l'esistenza di un cantiere che sta limitando tantissimo gli affari in un periodo dell'anno che dovrebbe essere quello più vivace, dato l'arrivo della primavera e data appunto anche la Pasqua. Non sono contenti perché limita il passaggio, limita i clienti, anche alle mie spalle come potete vedere il marciapiede è stato fortemente limitato dalle transenne e quindi tutti i negozi e i bar che si affacciano su questo tratto della piazza sono fortemente limitati. In più molti bar si sono trovati alle prese questa mattina e anche nei giorni scorsi con delle limitazioni della fornitura idrica e per un bar non avere l'acqua a disposizione sicuramente è un problema. Abbiamo raccolto delle testimonianze per capire appunto lo stato d'animo degli esercenti. Vediamo quanto abbiamo raccolto e poi linea lo studio. Piazzetta Marconi è un cantiere. Com'è convivere con una situazione del genere fuori dalla porta del negozio? Già, siamo di nuovo a questo punto qui. Dopo i quasi due anni del cantiere di Via Mercato Vecchio adesso ci ritroviamo con almeno 100 giorni di cantiere su piazza Marconi e speriamo che non ci siano dei ritardi. La situazione è complicata, è nuovamente complicata. Come potete vedere al di fuori del negozio lo spazio, la visibilità è davvero limitata. Non vi hanno avvisati per tempo? Ci hanno avvisati con un anticipo di una ventina di giorni, credo. Ed è troppo poco. Nel senso che noi come negozi ci regoliamo di ogni 6-7 mesi. Quindi dobbiamo prevedere quello che potrebbe essere il nostro lavoro ogni 6-7 mesi, di conseguenza programmare gli acquisti e tutto il resto. Quindi non potevamo pensare che in uno dei periodi migliori in assoluto dell'anno come questo pasquale, la primavera eccetera, ci potessimo trovare in una situazione come questa. Facciamo poco quello che riusciamo a fare, ci trasportiamo la roba su e giù, trasportiamo le immondizie, cerchiamo di tirare dentro i clienti, vediamo cosa fare. Avete risentito sul fronte degli affari? Beh, è palese che se ne risente. Penso che si poteva organizzare meglio la cosa. È molto dura, probabilmente porta via tutta la sala esterna, tutti i posti che abbiamo a disposizione, siamo costretti ad averli solamente sotto il portico, che diventa ovviamente un punto di passaggio tra biciclette, pedone e quant'altro. È abbastanza dura, poi purtroppo proprio nel periodo estivo è una grande perdita, sì. Abbiamo aperto alle 5, però devo dire la verità, ci hanno avvisato nella tarda mattinata che avevano ripristinato il servizio idrico e quindi abbiamo giustamente spurgato e depurato tutte le nostre fonti d'acqua e siamo ripartiti oggi alle 5. Quindi avete chiuso per la mattinata, poco più? Abbiamo aperto alle 17 con i disagi ovviamente che hanno avuto tutti i residenti, soprattutto e anche le agenzie, anche le aziende e tutti i negozi. Ma tutta la mattina non proprio, è soltanto dalle 10 circa fino a mezzogiorno, poi è durato poco alla fine. Poi è tornata? Sì, è tornata, è tornata. E siete riusciti a lavorare lo stesso? Sì, è stato un po' difficile all'inizio, però ce la siamo cavati alla fine, usando le bottigliette d'acqua del supermercato, diciamo. È cantiere di qua, cantiere di là, è tutto chiuso e io comunque lavoro un po' con le persone di passaggio o i clienti che ho qua in centro, quindi con le macchine non è che sia per me, almeno io ho sempre lavorato, ecco. Però fa strano, c'è tanti cantieri così, si è brutto, ecco. Altri problemi della città, quelli legati al degrado, alla sporcizia e allo spaccio di droga, ha fatto molto scalpore il servizio che abbiamo dedicato nei giorni scorsi nelle nostre pillole di Fair Play al palazzo ex regione in via Caccia, abbandonato da anni e divenuto ricettacolo di immondizia. Cresce la preoccupazione per un sospetto giro di spaccio a poche decine di metri, tra l'altro, dalla fermata delle Corriere, da cui ogni giorno salgono e scendono decine, centinaia di ragazzi delle scuole superiori. E allora vi mostriamo una sintesi di quanto abbiamo mandato in onda, documentato con le nostre telecamere, in attesa di risposte da parte dei proprietari del palazzo e dal comune di Udine, sindaco e assessore. Sentiamo. Siamo tra Piazzale Osoppo e via Caccia perché alle nostre spalle l'immobile che fino a qualche anno fa era occupato dalla sede regione FWG e che oggi è in totale stato di abbandono. Tra l'altro si stanno creando situazioni anche molto strane, pericolose. Allora adesso io mi sposto, continuo a spostarmi perché faremo il giro lungo tutto il perimetro. Allora qui questo è un altro angolo che è spesso oggetto non soltanto di abbandono ma accade un po' di tutto. Io ora vorrei farti vedere cosa che non c'era la scorsa settimana perché probabilmente qualcuno ha provveduto a portarsi via il neon. C'è un cavo penzolante e si sono portati via probabilmente la lampada e questo cavo sicuramente seppur non abbia e non presenti probabilmente la corrente allacciata non è molto sicuro perché è tutto a vista. L'immobile era dotato di impianti di condizionatore che presentano, anzi sono state lasciate all'esterno ovviamente i motori, le ventole. Oltre a questo giaciglio di fortuna che è esattamente tale quale alle nostre verifiche sopra luoghi fatti diversi giorni or sono. Io sono seriamente preoccupata perché poi qui accanto c'è un locale che ha fatto degli investimenti anche nella parte esterna e si ritrova magari a lavorare anche in condizioni di difficoltà. Qua sfruttando il forte traffico di studenti che va al sello, al Deganuti, alle varie sede periferiche, qua dalla mattina e soprattutto in periodi che vanno dall'1 alle 2, dove approfittano qua nella stara da qua accanto via Cazza per prendere la corriere petrolera a casa, spesso si sono viste attività di spazio, degrado più che altro, approfittando a posto della presenza di ragazzi, di purtroppo possibili clienti. Torniamo ora alla vicenda dei due cadaveri rinvenuti ieri sera senza vita all'interno di una villetta, Villa Primavera di Campoformido, un decesso che potrebbe essere datato addirittura a settembre-ottobre. Il vicinato è sotto shock mentre continuano le indagini. Rimane ancora un giallo al momento la macabra scoperta dai contorni ancora poco chiari effettuata ieri pomeriggio in una abitazione di Villa Primavera al quartiere residenziale in comune di Campoformido. Due cadaveri mummificati di un uomo e di una donna, Paolo Simonetti di 66 anni e la signora Antonilia di 72, sono stati rinvenuti all'interno di una villetta posizionata in strada dei Carpini al civico numero 7. Le primi riscontri, il loro decesso potrebbe risalire addirittura ai mesi di settembre-ottobre del 2021. Dopo l'allarme lanciato ieri sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del comando di Udine assieme ai carabinieri del NORM della compagnia friulana. I pompieri, quando hanno aperto con i loro arnesi la porta d'ingresso, che era chiusa dall'interno, hanno trovato i due corpi senza vita, in due stanze diverse, al primo piano. All'interno dell'abitazione, oltre al forte odore dovuto ai corpi in decomposizione che si avvertiva già dal giardino, sono stati ritrovati anche diversi cumuli di rifiuti e altro materiale. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica e le cause della morte. Difficile per il momento dire da quanto tempo fossero lì, ma sicuramente si parla di mesi, stando al primo risponso del medico legale intervenuto sul posto, soltanto l'autopsia che verrà fissata nei prossimi giorni potrà dare dei ulteriori riscontri in tal senso. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, per il momento hanno escluso l'ipotesi di una morte violenta per mano di terzi. Da quanto raccontato da alcuni vicini di casa, all'assenza della coppia nel contesto della zona residenziale, tra l'altro non risultano residenti a Campo Formido, non era stato dato troppo peso, in quanto si sapeva che i coniugi possedevano anche altre due abitazioni, una casa a Lignano e un'altra a Brescia. Si ipotizzava quindi che la loro assenza fosse dovuta ad un trasferimento in una di quelle due località, dove solitamente si recavano per trascorrere il loro tempo libero. Nella casa hanno lavorato fino a tarda sera gli esperti dei rilievi tecnici che anche oggi proseguiranno, come disposto dalla procura di Udine, la quale ha aperto un fascicolo d'indagine per raccogliere tutti gli elementi che potrebbero essere utili a ricostruire le ultime ore di vita dei due anziani. Andiamo a vedere i numeri di oggi per quanto riguarda l'andamento dei contagi da Covid-19 in regione. Eccoli qui, siamo ancora abbondantemente sopra quota mille contagi giornalieri, 1229, 153 in più rispetto a ieri. Rimangono stabili, attrae le terapie intensive, 150 persone sono ricoverate invece nei reparti ordinari negli ospedali della nostra regione causa appunto Covid. Crescono anche gli isolamenti, siamo sopra 24.500 persone isolate e purtroppo sale anche il numero delle vittime che oggi riguarda una persona deceduta appunto causa Covid, si tratta di una signora di Monfalcone. Questi sono i numeri e se da un lato possiamo dire che insomma il picco dell'emergenza per quanto riguarda le ospedalizzazioni da Covid è assolutamente passato, ce lo siamo lasciati alle spalle, l'emergenza per la sanità friulana continua. Associazioni e sindacati dei medici rianimatori anestesisti sferrano un nuovo attacco all'assessore regionale alla salute Riccardi affermando che il sistema di emergenza urgenza è arretrato, carente e inadeguato. Ne parleremo questa sera a pillole di far play con Alberto Peratone, presidente dell'Arao. Sentite. Il piano è datato, non è mai stato attuato completamente, presenta delle criticità alcune anche molto lampanti come equipaggi di ambulanza ancora non in numero legale, assenza di automediche, criteri di arruolamento e preparazione degli operatori, omogeneizzazione dei percorsi, protocolli uniformi in tutta la regione, quindi è un piano che assolutamente è fermo ormai da due anni. Altra criticità non esiste di fatto un organo di controllo a livello regionale che permetta di valutare la qualità del sistema, di colmare le inefficienze, il gap e di sanare le situazioni di sperequazione nel livello di assistenza che viene data dai mari ai monti, cioè in questa regione abbiamo ancora delle grosse differenze nell'ambito 118 emergenza urgenza sulla qualità e sulla tipologia di erogazione del soccorso e dell'assistenza. Altri problemi che abbiamo segnalato come importanti sono legati sicuramente alla Sores che è una centrale operativa di fatto incompiuta, sconnessa e decontestualizzata dall'intero sistema di emergenza territoriale. L'abbiamo definita la cattedrale del deserto perché questa è una centrale meramente telefonica dove anche gli operatori di fatto, nonostante la loro buona applicazione, la professionalità, non sono riusciti ad avere un'integrazione con il resto del territorio. Protestano anche le poste che domani sciopereranno, tra l'altro con l'appoggio, diciamo così, dei sindaci, i sindaci che hanno chiesto con forza in questi anni che Poste Italiane mantenesse i servizi che aveva da sempre caratterizzato la sua presenza in regione, invece oggi le poste scrive il presidente di Anci, Friuli Venezia Giulia, escono dalla pandemia con un'oggettiva riduzione dei servizi che non può lasciare indifferenti, soprattutto a fronte di un consistente aumento degli utili. In questi anni ci sono territori come la provincia di Pordenone dove oltre mille dipendenti non sono stati sostituiti per comprimere i costi e massimizzare i profitti. Rispetto alla fase prepandemica gli sportelli hanno visto ridursi drasticamente gli orari di apertura e a fare la spesa di queste situazioni sono tutti cittadini, specialmente gli anziani che spesso non hanno familiarità con i servizi online. Dedichiamoci ora alle spiagge perché sta per cominciare la stagione turistica estiva e allora cominciamo da Grado dove la GIT ha un nuovo presidente, l'ex sindaco gradese Roberto Marin che guiderà il CDA del Sodalizio, forte dei buonissimi risultati ottenuti negli ultimi anni nonostante la pandemia. E poi c'è la stagione che partirà ufficialmente il 1 maggio e prenderanno anche il via ufficialmente i festeggiamenti per i 130 anni della spiaggia. Cambio della guardia alla guida della GIT di Grado dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio su proposta del socio di maggioranza Promoturismo FWG, l'Assemblea dei Soci ha affidato la società a un consiglio di amministrazione composto dal presidente Roberto Marin, ex sindaco dell'Isola del Sole e dai consiglieri Caterina Zanone e Paolo Pittini. Il nuovo CDA sarà chiamato a valorizzare e integrare ulteriormente l'offerta gradese nel contesto regionale, forte di risultati brillanti ottenuti in questi anni, a conferma della qualità del lavoro svolto dall'amministratore unico della società Alessandro Lovato. Tra le sfide che attendono la nuova gestione vi sono le terme, che è stato rimarcato, saranno una risorsa straordinaria per l'intero frulli Venezia Giulia. Il 2022 sarà l'occasione per grado per festeggiare anche i 130 anni della spiaggia della Mitteleuropa. Porta infatti la data del 25 giugno 1892 la legge con cui l'imperatore Francesco Giuseppe riconobbe grado come curort, ovvero luogo curativo e stazione balneare di riferimento per la Mitteleuropa, la prima della regione. Dal momento che la gitta ha ereditato la spiaggia dell'imperatore, è stata predisposta una serie di cabine d'epoca. Tra le iniziative celebrative vi sarà una mostra di cartoline e foto saluti da grado negli spazi dell'Isola d'Oro, una bottiglia dedicata dalla tenuta storica di Villa Russiz di Capriva di Pino Grigio, una serie di concerti dell'orchestra FVG e una rassegna diffusa di immagini d'epoca grado 130. Il cartellone di eventi presentato stamattina all'Hotella Storia prenderà il via domenica 1 maggio alle 16 con l'inaugurazione della 130esima stagione e balneare all'ingresso principale della spiaggia GIT. Tra le altre iniziative previste una serie di giornate di screening dermatologico con il patrocinio di Asugi e dell'Università di Trieste. Andiamo a Lignano ora per la riapertura del passo barca e tante altre novità. Nella giornata di lancio della riapertura del passo barca tra Lignano e Bibione alla foce del Tagliamento, operativa da domani fino poi al 1 novembre, la regione ha presentato il programma di servizi marittimi e fluviali predisposti per incentivare i turisti a scoprire il territorio. Un piano articolato che prende il via già in questi giorni di Pasqua in anticipo di un mese e mezzo rispetto all'anno passato. Questo per accrescere ulteriormente i passaggi dei turisti saliti lo scorso anno a ben 184.350. Un investimento di quasi un milione di euro che andrà a potenziare oltre al raccordo tra le sponde Veneta e Friulana del fiume anche la linea acquatica tra Marano e Lignano, tra Lignano e Grado e tra Grado e Trieste. Il tutto con il principio cardine della intermodalità dedicata ai pedoni e ai ciclisti. Giordo importante, siamo tornati quest'anno a inaugurare questo passo barca che era partito come una sperimentazione dove in pochi ci credevano ma si è rivelata veramente un progetto interessantissimo, molto apprezzato dagli utenti e soprattutto dai ciclisti. Nel dettaglio il passo barca proporrà corse ogni 40 minuti lungo l'arco della giornata dalle ore 9 alle 19 nel periodo con maggior richiesta. È un servizio che abbiamo costruito in casa inizialmente grazie alla spinta che è pervenuta insomma dagli operatori turistici sia del comune di San Michele e Bibione sia del comune di Lignano. È iniziata già nel 2019 ma c'è una collaborazione con il comune di Lignano da sempre nel senso che in qualche modo i problemi nostri sono anche un po' similari a quelli di Lignano. Tra Marano e Lignano invece il trasporto su barca scatterà dall'11 giugno fino poi all'11 settembre da quattro corse giornaliere più una serale nei mesi di alta stagione. Da Lignano verso Grado e da Grado verso Trieste invece trasporti attivi dal primo di giugno fino al 31 agosto con rispettivamente due e tre corse giornaliere. Infine confermatissimo pure lo storico collegamento a tappe lungo la costiera triestina la barcola Grignano a Sistiana. Tutte le tratte consentiranno di fare un abbonamento da 10 o 50 corse a prezzo agevolato. Si aprirà domenica 8 maggio la stagione 2022 della riserva di Cornino. Offrirà appuntamenti fino al 24 dicembre e presso al centrovisite una nuova sala dedicata al tagliamento. Fortunatamente quest'anno possiamo ripartire con quelle che sono le visite guidate e quello che è la riserva nel suo completo dopo due anni di stop. Quindi questo è un giorno importante, la riserva comunque è aperta tutto l'anno ma da maggio adesso inizieranno tutte quelle che sono le attività della riserva con molti eventi. Il primo ce l'abbiamo l'8 di maggio che è dedicato all'acqua, al fiume tagliamento per poi comunque proseguire durante tutta l'annata con eventi dedicati ai lupi. E poi quest'anno abbiamo anche eventi particolari come sulle note della natura quindi con anche dei concerti all'alba che comunque richiamano quello che sono la natura e i suoni degli uccelli. La nostra progettualità turistica dell'intero territorio è sicuramente la perla più importante è sicuramente oltre al Tepiano di Monteprat, oltre alla varia senteristica e anche la Ghettipacca, il Tagliamento e l'Arzino è il luogo che attrae i più visitatori ed è un luogo che ha una grande importanza per noi ha una duplice importanza sia per quanto riguarda proprio il progetto legato alla riserva naturale regionale quindi con la regione per la conservazione delle specie, dei grifoni, rintroduzione ma anche per quanto riguarda l'attrattività e l'attrazione di famiglie e dei giovani che è sempre maggiore questo anche grazie soprattutto alle numerose attività che vengono messe in piedi per far concepire la riserva naturale non solo come un luogo importante, interessante dal punto di vista scientifico e naturalistico ma anche di un luogo proprio di insegnamento e di conoscenza per i bambini e per le famiglie della naturalità e delle specie del nostro territorio. A proposito di appuntamenti per l'estate, il No Borders Music Festival 2022 ha annunciato oggi quello che sarà uno dei suoi protagonisti stiamo parlando di Tommaso Paradiso, protagonista della 27esima edizione della Rassegna che attraverso la musica supera i confini linguistici, etnici, sociali e geografici uno dei più amati cantautori italiani contemporanei che per la prima volta si esibirà sulle montagne friulane un concerto speciale in mezzo alla natura, abbiamo imparato a conoscerlo i laghi di Fusine è raggiungibile solo a piedi o in bici, sarà la sua unica data in acustico dell'estate Tra poco le notizie sportive e allora per qualche anticipazione ci colleghiamo con Eleonora Nocent Buonasera a te Giorgia, buonasera a tutti i nostri telespettatori ci stiamo avvicinando alla sfida contro l'Empoli l'Udinese cerca la terza vittoria consecutiva che sarebbe un gran bel traguardo poi c'è grande risposta da parte del tipo che dopo i 2000 tifosi che sono andati al Penso a Venezia per sostenere la squadra c'è grande risposta anche per sabato alla Dacia Arena invece il Pordenone sarà di scena a lunedì di Pasquetta cercando di ritardare il più possibile la retrocessione matematica e poi c'è la più perché è terminata la regular season e siamo praticamente in procinto di iniziare con la fase orologio solo alcune delle notizie che vedremo nel nostro appuntamento dopo il Tg di Cronaca Grazie Eleonora, tra pochissimo andiamo anche a ricordare i principali appuntamenti della serata su Udinese TV con gli appuntamenti con l'informazione che li vedete elencati e l'appuntamento con la prima serata alle 21 come ogni giovedì l'agenda di Alberto Terasso questa sera il confronto verso il voto con i candidati a Tolmezzo ci fermiamo qui, vi lasciamo al meteo e poi il Tg Sport Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimetre per la giornata di venerdì che nel complesso sarà bella sulle regioni di nord-est però vi devo segnalare un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose qualche breve acquazzone tra pomeriggio e prime ore della serata però fenomeni davvero isolati in un contesto di bel tempo e anche con temperature molto miti entriamo più nel dettaglio Pordenone-Udile con tempo bello dicevamo qualche piovasca in montagna nel pomeriggio valori massimi fino anche a 22-23 gradi al sole forse anche qualcosina di più al primo mattino aria frizzantina ma nel complesso si starà sempre bene anche tra Gorizia e Trieste è ben poco da segnalare tempo anche qua bello, anche qua temperature molto miti però prima di salutarvi vi anticipo che nel lungo weekend di Pasqua arriverà aria più freddina e un po' di vento per tutti i tagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie a tutti.